Ma meglio di così non poteva andare. A parte giochiamo contro la squadra che ha vinto l'ultima Champions League, perciò è la favorita in assoluta. Però non partiamo da battuti perché l'abbiamo dimostrato due volte con Borussia Dortmund. Cercheremo anche di affrontarlo questa partita con grande entusiasmo perché ce la siamo meritati.